CTRL SHIFT R Per chi non lo ricordasse facciamo un piccolo ripasso. I punti SMART che cosa sono? I punti SMART sono dei particolari punti sulla pagina che non sono contrassegnati da tag come possono essere le intestazioni o i controlli form, insomma una cosa definita nell'HTML della pagina, ma sono dei punti contrassegnati da attributi testuali particolari, quindi caratteristiche visive. E che JAWS, proprio per le loro caratteristiche visive, ritiene essere utili come punti di interesse e quindi li analizza, analizza la pagina e ne estrae alcuni punti che tagga il programma chiamati appunto punti SMART. E molte volte possono davvero essere fondamentali perché in un sito magari poco accessibile, ma anche un sito molto accessibile che però non ha tutte le intestazioni per esempio definite, ecco che i punti SMART possono essere utili perché con i loro attributi del testo possono essere appunto definiti da JAWS e aiutarci nella navigazione. Andiamo a vedere un caso pratico, il sito di Amazon. Ok, andiamo a fare una ricerca, non lo so, cerchiamo Lenovo, quindi premiamo la E per finire direttamente nel campo di ricerca. E cerchiamo Lenovo. Molto bene. La pagina è stata caricata e ora proviamo a premere la Y per andare al prossimo punto SMART. Vediamo che cosa ci viene suggerito. Risultati. Risultati, vedete. Risultati è una stringa che non ha un'intestazione, ma è l'inizio dei risultati. Quindi noi, premendo una volta la Y, siamo già ai risultati. Possiamo scendere. E qui abbiamo tutti i risultati. Se premiamo ancora Y. Ci sono gli ultimi arrivi. Quindi possiamo scendere. Elenco di link grafico all'invuoto. Link Lenovo. PC portatile e notebook pronto all'uso. Display FHD da 15,6. C più N4500. Altri risultati. Altri risultati. Premiamo ancora. Climate Pledge Friendly. Climate Pledge Friendly. Altri risultati. Ricerche correlate. Ricerche correlate. Quindi vedete, abbiamo un'ulteriore suddivisione che semplicemente usando l'H delle intestazioni non avremmo. Non avremmo perché queste sezioni, quindi risultati, ricerche correlate, altri risultati, non sono marcate con delle intestazioni. Quindi se noi premessimo semplicemente l'H per passare tra le intestazioni, ci perderemmo questa suddivisione in risultati, ultimi arrivi e quant'altro. Questo breve video era per dimostrare un caso pratico in cui i punti smart davvero fanno la differenza per comprendere ulteriormente la struttura, in questo caso, della pagina dei risultati di ricerca. Spero vi sia stato utile. Alla prossima. Windows di sinistra.